Operaio muore per recuperare il cellulare. Il 23enne Simone Ferri era caduto ieri dal tetto di una ditta a Monsan Polo del Tronto in tre mesi nelle Marche, sei vittime del lavoro. San Ginesio, tra i villaggi più belli del mondo, a consegnare il riconoscimento arriva il ministro al turismo Garavaglia, che parla di un'estate positiva e della DDL concorrenza. Scuole sicure, innovative in regione, nove eccellenze, 64 milioni dal PNRR a Pesaro, demolita e ricostruita l'Annafranc, con alti livelli di sostenibilità ambientale. Re Canatese, la stagione comincerà a fermo in attesa di sistemare lo stadio Tubaldi per la C-SAMB, solo 100 biglietti per i tifosi rosso-blu in vista della finale play-off di Roma con la Trastevere. Un cordiale saluto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg Marche. Apriamo con l'incidente sul lavoro costato la vita ad un giovane di 23 anni, ma facciamo anche il punto di quelli che sono i numeri che arrivano dalla regione. Su questo fronte, Rossella Luciani. Sarebbe tornato sul tetto per recuperare un cellulare dimenticato lì da un collega. Per questo sembra che il 23enne Simone Ferri non indossasse più i dispositivi di sicurezza che avrebbero potuto salvargli la vita. È questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti che continuano senza sosta le indagini, portate avanti dai carabinieri di Monsampolo del Tronto con gli ispettori dell'Asur. Il tutto per chiarire quanto prima. La dinamica dell'incidente è avvenuto alle 13.30 di ieri nel capannone della ditta Api, ex equip a stella di Monsampolo. Il ragazzo, una volta salito sul tetto dell'azienda per cui lavorava, per causa ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Un volo drammatico che in pochi minuti gli è stato fatale. Non si esclude che il giovane possa aver perso l'equilibrio precipitando. Proprio per questo la procura di Ascoli ha aperto un fascicolo sulla vicenda con l'ipotesi di omicidio colposo. Non è ancora stata fissata l'autopsia, ma gli inquirenti potrebbero optare anche per una ricognizione cadaverica, dato che le cause del decesso sembrerebbero legate ai gravissimi traumi riportati nella caduta. La terribile notizia si è abbattuta su Castel di Lama, ancora scossa dalla morte di Federico Petracci, rimasto vittima di un incidente stradale in moto lungo la salaria. Simone viveva invece nella frazione di Piattoni, con la mamma Angela, il papà Gabriele e il fratello Francesco. Dall'inizio dell'anno e solo nel primo trimestre 2022 sono state sei le morti bianche nelle Marche, secondo i dati della CGL regionale. Un vero e proprio bollettino di guerra che torna a mettere in primo piano il tema della sicurezza sul lavoro. Il GIP del Tribunale di Fermo ha convalidato il fermo dei due cittadini albanesi, zio e nipote, uno residente in Italia e l'altro in Albania, arrestati dai carabinieri della Compagnia di San Benedetto perché ritenuti responsabili di traffico di sostanze stupefacenti. Sarebbero stati loro, infatti, a nascondere decine di panetti di cocaina per un totale di 20 chili in alcuni vasi delle piante che il commerciante albanese, cliente da tempo di un noto vivaista di Grotta Mare, aveva acquistato e che probabilmente dovevano essere caricate su un furgone che stazionava nei pressi. Ma il blitz dei militari dell'arma ha mandato in fumo i loro piani, a tradirli il fatto che i due, nonostante avessero acquistato piante di piccole dimensioni, avessero deciso di metterle in vasi più grandi. Questo ha insospettito qualcuno del vivaio che, vedendo il terriccio smosso, ha avvisato le forze dell'ordine. Il valore della droga all'ingrosso si aggira intorno al milione di euro, mentre non è ancora chiara quale fosse la sua destinazione. Entrambi gli albanesi sono assistiti e difesi dall'avvocato Vittorio Supino di Chieti. Investì e uccise due donne all'uscita della discoteca a Senigallia. ha patteggiato la pena a tre anni e otto mesi. Sentiamo. Ha patteggiato a tre anni e otto mesi Massimo Renelli, l'autotrasportatore di 48 anni di Senigallia, che il 6 gennaio 2020 uccise a seguito di un investimento Sonia Farris, 34 anni parrucchiera calcinelli di Colli al Metauro, ed Elisa Rondina, 43 anni, insegnante di Monte Felcino. Le donne erano uscite dalla discoteca Megà di Senigallia e stavano camminando lungo la strada arceviese quando sono state investite e scaraventate a parecchi metri di distanza. Una perizia cinematica fatta fare dal giudice per le indagini preliminari aveva stabilito che Sonia e Elisa erano visibili sulla strada. Dopo la richiesta di rinvio giudizio, si è svolta l'udienza preliminare al Tribunale di Ancona per il duplice obicidio stradale aggravato davanti alla GUP Francesca De Palma. Difeso dagli avvocati Tommaso Rossi e Marusca Rossetti, Renelli ha preferito essere processato con rito alternativo. Nessuna parte civile era presente in aula perché i familiari delle vittime non hanno proseguito con l'azione penale essendo stati risarciti. L'uomo risultò positivo anche al tasso alcolico. La pagina dedicata al Covid. Vediamo quali sono i dati di oggi. Scende di giorno in giorno la curva del contagio. Nelle ultime 24 ore si contano 526 nuovi casi. Il tasso di positività sulla base dei tamponi eseguiti, 2.126, è del 24,7%, mentre l'incidenza accumulativa su 100.000 abitanti è a quota 278,19. La distribuzione di casi giornalieri per provincia vede in testa sempre Ancona con 154, segue Macerata 108, Pesaro Urbino 103, Ascoli Piceno 72, Fermo 63 e 26 fuori regione. Recovery in picchiata, meno 8, con un totale di 88 pazienti ricoverati Covid negli ospedali marchigiani, ma si registrano anche altri due decessi legati al virus. Si tratta di due donne di 71 e 76 anni, residenti nella provincia di Ancona. San Ginesio è uno dei borghi più belli del mondo. A consegnare il premio al sindaco Giuliano Ciabocco è stato il ministro Garavaglia. Sentiamo, Rossella Luciani. Il turismo continua il faticoso ma costante processo di guarigione dal ciclone Covid e la stagione estiva si annuncia molto positiva per l'Italia, già a partire dal ponte del 2 giugno. A dare la carica al settore è il ministro Massimo Garavaglia che ha fatto tappa a San Ginesio per un convegno sul prestigioso premio Best Tourism Village che il borgo maceratese ha ricevuto dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Siamo risaliti di due punti, di due posti nella classifica della competitività del World Economic Forum. È un dato recente, proprio di questa settimana. Siamo risaliti dal dodicesimo al decimo posto e questo vuol dire che con un minimo di organizzazione quel 13% del PIL, che è il valore oggi del turismo, può diventare il 20%. Tornando a San Ginesio, il ministro consegnando il riconoscimento al sindaco Ciabocco ha parlato di una grande occasione di ripartenza dopo il sisma. Allora, San Ginesio è stata segnalata dal ministero come uno dei borghi più belli d'Italia e ha vinto questo premio dell'ONU uno dei villaggi più belli del mondo. Ecco, questa è un'enorme occasione per San Ginesio, per le Marche ma per questa Italia cosiddetta minore che è minore nel senso che è solo meno conosciuta poi se la scopri tenendo amori. Un orgoglio anche per il governatore Acquaroli che vede nel rilancio dei borghi è uno dei principali obiettivi della sua amministrazione. Questo non solo deve essere un orgoglio ma anche uno stimolo e uno stimolo e anche un elemento non di soddisfazione ma di dare appunto pieno compimento a un progetto che sappia insieme a San Ginesio promuovere tutto un territorio straordinario e una vocazione nel nostro territorio marchigiano. Il ministro ha commentato infine anche l'accordo raggiunto sul DDL e concorrenza che di fatto dà via libera alla Bolkestein ma con la definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente posto a carico di quello subentrante nelle concessioni demaniali. E quindi anche questo è finalmente un capitolo chiuso adesso andranno fatti i decreti attuativi della legge quadro però finalmente si dà stabilità a un sistema che è la cosa più importante. Sono nove le scuole nelle Marche considerate innovative e sicure che sono state finanziate con quasi 64 milioni di euro del PNRR. Vediamo. Nelle Marche nove scuole si sono aggiudicate i fondi del bando PNRR per le scuole sicure e innovative nel complesso oltre 63 milioni di euro. Tra questi istituti a Pesaro c'è la scuola Anna Frank. Assessore Pozzi, cosa succederà a questo istituto pesarese? Innanzitutto iniziano ad arrivare le prime graduatorie da parte del ministero sulle tante candidature ai bandi PNRR che come comune abbiamo partecipato. Una delle prime risposte che arrivano dal ministero è una risposta che ci dà un motivo di tanto soddisfazione e grande orgoglio perché ci consentirà di andare a intervenire su una scuola importante per la città l'Anna Frank appunto una scuola che è collocata in un contesto di grande bellezza anche paesaggistica e naturale perché siamo all'interno del Parco San Bartolo ed è una scuola che verrà completamente riqualificata quindi andremo l'intervento che sarà interamente finanziato con le risorse del PNRR appunto prevederà una demolizione e ricostruzione dell'attuale scuola di Santa Maria della Fabrice e la nuova scuola sarà una scuola da un punto di vista di spazi di efficientamento energetico e di sicurezza al top un'altra scuola in legno una scuola con quindi spazi ripensati anche in funzione di come è cambiato anche il modo di fare didattica e di come deve cambiare quindi spazi anche luminosi con tante vetrate e quindi un edificio davvero al top sotto tutti i punti di vista e torniamo sulla protesta della marineria oltre 200 pescatori marchigiani e abruzzesi si sono trovati al porto di Ancona per manifestare contro il caro gasolio vediamo quali sono le ultime notizie sul caro gasolio la protesta dei pescatori si è spostata al porto di Ancona con estrescioni esposti prima davanti al mercato ittico e poi con un corteo diretto verso la zona Zipa oltre 200 gli operatori della pesca giunti da Marche e d'Abruzzo che si lamentano perché il gasolio è arrivato a costare circa 1,20 euro e secondo gli addetti porterà a favorire il pescato di importazione mettendo in ginocchio il settore il motivo che ci ha riportato tutti in Ancona è il caro gasolio non ci stiamo più dentro con le spese e le barche cominciano ad andare in difficoltà qualcuno è arrivato proprio al limite risposte dal ministero per adesso sono zero anche quello che ci ha firmato e promesso tre mesi fa non è arrivato niente quindi i pescatori sono stati proprio abbandonati abbandonati completamente oggi sul pescareccio incide tutto una barca come la mia consuma 3.000-3.200 litri di gasolio al giorno faccia i conti quello che può incidere non sono mancati momenti di tensione con la polizia che ha sorvegliato la situazione in assetto antisommossa mentre il corteo causava disagi alla viabilità tra il porto pescareccio e l'uscita a nord dello scalo e poi slogan urlati e fumogene accesi per far sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sui problemi delle marinerie il prezzo del pesce purtroppo non lo facciamo noi ma lo studiamo perché noi vendiamo il pesce dentro il mercato all'asta quindi il commercio domanda richiesta fa il prezzo solito il prezzo quando comincia le stagioni più calde si abbassano perché la gente va male il pesce lo consuma meno la pesca è sempre più ridotta il pesce estero ne entra sempre di più e noi siamo abbandonati completamente senza nessun aiuto una delegazione di pescatori è stata poi ricevuta dal prefetto Pellose che ha dato la propria disponibilità ad informare il governo nazionale in ordine alle istanze presentate dalla marineria dell'Adriatico in consiglio comunale a Fermo l'opposizione ha chiesto risposte sulle spese e modalità del sistema di videosorveglianza a Lido Trearchi ce ne parla Donatella Lappa è approdata in consiglio comunale durante l'ultima sise civica affermo l'interrogazione che riguarda il sistema di videosorveglianza nel quartiere di Lido Trearchi la questione sollevata da un organo di stampa del territorio che in una dettagliata videoinchiesta pone l'accento sugli sprechi nelle pubbliche forniture mette in evidenza numerose incongruenze sia nei prezzi che nelle modalità di assegnazione dell'installazione delle telecamere credo in particolare che si faccia riferimento alle modalità di affidamento delle forniture tramite appunto il metodo dell'affidamento diretto e non della gara d'apparto frazionando da quello che si evince dall'articolo in più spezzoni le varie forniture per farle mantenere a di sotto di 40 mila Euro inoltre quanto ho detto delle camere oltre che ai dissuasori per il traffico che sono un altro elemento che è stato oggetto di analisi si specificava che i costi per gli acquisti di tali materiali sarebbero esorbitanti ci deve essere chiarito per quale motivo la ditta che era incaricata di effettuare il progetto di riqualificazione sia risultata anche affidataria della fornitura da quello che si evince dall'articolo di stampa che abbiamo commentato insieme all'amministrazione e di conseguenza se questo sistema abbia permesso attraverso poi un meccanismo di subappalto di far sì che ci fosse poi come dire un escamotaggio per poter superare diciamo la normativa in materia di affidamento diretto La risposta che è stata data dal Vice Sindaco che io ringrazio tra l'altro perché non era semplice dare risposta a un'intervenzione così come articolata da parte nostra non è stata sufficiente perché non ha chiarito per quale motivo il costo inserito nel dettaglio del piano di riqualificazione per l'acquisto delle telecamere fosse appunto così elevato circa 3.000 euro per ogni videocamera di sorveglianza la risposta è stata che in realtà quel prezzo non comprende solo l'apparecchiatura nuda della videosorveglianza ma tutta una serie di apparati software e altri accessori che fanno sì che il prezzo aumenti tanto è vero che in altri comuni i costi che vengono affrontati sono gli stessi siccome riteniamo che i cittadini non siano stati non possano dirsi soddisfatti delle risposte date in consiglio comunale valuteremo in maniera come dire libera e tranquilla le risposte che ci ha dato l'assessore confronteremo le stesse con le nostre domande e con i dati oggettivi che abbiamo già diciamo avuto a disposizione e poi vedremo cosa fare e dopo la pandemia i florovivaisti marchigiani tornano ad Euroflora sentiamo il florovivaismo marchigiano riscuote successo a Euroflora e ottiene a Genova importanti riconoscimenti nel corso della manifestazione che ha registrato oltre 240.000 visitatori in totale e un ritorno di espositori nazionali ed internazionali cinque aziende marchigiani di cui quattro scolani e una fermana sono state premiate Vivai Acciarri Alfredo di Massignano ha vinto l'oro per il Pitò Sforonano e Palmizzi mentre ad aggiudicarsi l'argento sono stati Balestra Vivai di Grottammare per Oleandri in varietà Fratelli Bernabèi Bruno e Vincenzo di Spinetoli per piante con foglie decorative Talamonti Angelo di Campofilone per piante con fogliame persistente mentre un riconoscimento è andato anche alla Traini Ecoservice di Castel di Lama che ha curato l'allestimento del padiglione espositivo delle Marche Euroflora un successo che è stato reso possibile grazie anche all'impegno e al sostegno della Camera di Commercio delle Marche Euroflora che torna a essere un evento che è stato rimesso in piedi dopo questo periodo di Covid da due anni avevamo un lustro importante negli anni passati dove i nostri florovivisti hanno sempre vinto dei premi anche quest'anno anche se l'Euroflora era una formazione ridotta è stata realizzata i nostri florovivisti hanno vinto dei premi oggi vorremmo soltanto riconoscere a loro quel valore aggiunto che hanno dato in un periodo di pandemia mantenendo le proprie strutture mantenendo la propria forza lavoro mantenendo diciamo quel trend positivo del florovivismo marchigiano un settore quello florovivistico che nelle Marche conta 367 imprese e impiega 738 addetti e che ha a Euroflora ha portato prodotti che hanno radici nel territorio marchigiano dall'alloro all'oleandro dall'oro paetalo al pitosforo piante esportate in tutta Italia non solo e che per questo viene tenuto in massima considerazione anche dalla regione Marche ma io credo che questo sia un comparto su cui è necessario non solo confidare perché sappiamo quali meriti ha accumulato del tempo ma su cui dobbiamo concentrare l'attenzione perché rappresenta soprattutto per il sud delle Marche e per la provincia di Ascolipiceno una realtà documentata dai numeri che parlano di 367 imprese florovivistiche di più di 700 addetti una realtà importante su cui la regione sta cercando di puntare molto e da questo punto di vista abbiamo voluto insieme all'assessore Carlone accettare l'invito della Camera di Commercio a rendere possibile una partecipazione importante significativa a quella che è la fiera delle fiere per quanto riguarda questo comparto appunto quello del florovivaismo mi riferisco a Euroflora 240 mila sono i visitatori di questa fiera straordinaria rispetto alla quale abbiamo messo in campo risorse proprio per favorire coloro i quali oggi saranno proprio riconosciuti come partecipanti attivi ad Eurofloria sono circa 5 imprese che oggi verranno come dire umaggiate di un'attenzione che non è solo formale ma anche soprattutto sostanziale perché sappiamo che questo comparto può dare grandi e ulteriori soddisfazioni la regione la Cama di Commercio ha anche l'Unione fa la forza la pagina sportiva l'Italia Under 21 sarà ad Ascoli Piceno il prossimo 10 giugno in vista della sfida di qualificazione agli europei prevista per il 14 contro l'Irlanda lo stadio del Duca calcio d'inizio alle 17.30 gli azzurri terranno una conferenza di presentazione della partita sabato 11 a mezzogiorno presso il Palazzo Comunale la Serie C la Re Canatese continua a programmare la prossima stagione nei professionisti dopo le conferme di Mister Pagliari e Bomber Sbaffo la società in attesa di mettere a norma lo stadio Tubaldi giocherà a fermo Michele Natalini la conferma di Capitan Sbaffo dopo quella di Mister Pagliari e la soluzione stadio Orecchioni di Fermo in attesa di un Tubaldi a norma per la Serie C tassello dopo tassello la Re Canatese impegnata nella pullo a scudetto di Serie D prossima tappa a Rimini il primo giugno prepara il ritorno tra i professionisti dopo 74 anni e le ultime mosse sono importanti intanto Alessandro Sbaffo Re Leone ha siglato l'accordo per restare in maglia giallorussa dopo una stagione da record 23 gol in 32 partite e il titolo di capocannoniere del Gironef per il 31enne centrocampista nato a Lorito sarà il terzo campionato consecutivo a Re Canati la squadra dunque ma anche e soprattutto la questione stadio il Tubaldi va sistemato in tal senso il comune ha prontato un mutuo di 620 mila euro per completare i lavori di omologazione dell'impianto va portata la capienza dagli attuali 800 posti a 1500 e poi va allargato il campo e rifatto il manto in erba sintetica lavori presto al via ma intanto la Re Canatese si cautelerà indicandone la domanda di iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro a un secondo stadio quasi certamente sarà il recchione di fermo distante una cinquantina di chilometri che la C l'ha appena salutata niente da fare per l'Elvia Recina di Macerata la soluzione forse più logica ma al momento non praticabile visto che dopo aver ospitato il Matevica l'anno scorso lo stadio avrebbe bisogno di altri interventi strutturali e dunque con la stagione al via tra la fine di agosto e primi di settembre la Re Canatese di Giovanni Pagliari giocherà le prime partite in Lega Pro a fermo la serie di caos biglietti per la finale playoff di domenica a Roma tra Trastevere e Samb alla fine sono 100 quelli destinati ai tifosi rosso-blu con la possibilità però di acquistarne altri qualora restasse in venduta parte della dotazione da 700 per i sostenitori di casa ascoltiamo Michele Natalini 100 biglietti al momento solo quelli ma anche la possibilità di acquistarne altri direttamente domenica al Trastevere Stadium qualora resti in venduta una parte dei 700 tagliandi destinati ai tifosi di casa si è arrivati a questo dopo un'altra giornata di incertezza ma senza una comunicazione ufficiale resta un gran pasticcio la finale playoff del Girone F di Serie D tra la squadra capitolina e la Samba organizzazione a dir poco approssimativa e decisioni riviste più volte pariva infatti si dovesse andare verso l'inversione dei settori nell'unica tribuna da 800 posti dando così più spazio ai tifosi rosso-blu alla fine però niente il Trastevere ha avviato la prevendita a mezzogiorno e nel tardo pomeriggio la dirigenza ha dato indicazione della citata modalità 100 biglietti acquistabili al Trastevere Storo prenotabili telefonicamente allo 06-58-33-42-39 il resto eventualmente al botteghino il giorno della partita senza certezze però di quanto potrebbe essere l'extra a disposizione dei tifosi rosso-blu come autorizzarli a partire in ogni caso senza tagliando con quello che ne potrebbe conseguire dal punto di vista della sicurezza in un impianto peraltro situato all'interno di Villa Doria Panfini intanto formula identica a quella delle semifinali in caso di parità al novantesimo i tempi supplementari e se la situazione non si dovesse sbloccare il playoff lo vincerebbe il Trastevere meglio classificato Samba che partirà per la capitale domani dopo l'allenamento di rifinitura mattutino indisponibili Alboni Frulla e Lulli e questo era il nostro ultimo servizio si ferma qui il TG Marche grazie dell'attenzione e buon proseguimento con i programmi sulla nostra rete arrivederci